Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su For Honor per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi eccoci tornati su questo titolo, oggi episodio un po' particolare ragazzi, sarà più lungo del solito Infatti andremo a vedere insieme il capitolo 4, 5 e 6 della campagna dei samurai E quindi ragazzi termineremo finalmente questa fantastica serie, sono molto contento che vi sia piaciuta Per quanto riguarda il multiplayer non so se vi porterò video riguardanti anche quella modalità di gioco presente su For Honor Considerate che ho già provato la Closet Beta e ho registrato qualche video che potete trovare sul canale Magari un paio di video ve li porterò, adesso vedrò un attimo io Per il momento gustiamoci il capitolo 4, 5 e 6 della campagna dei samurai con annesso finale di serie Perfetto ragazzi eccoci qua, il capitolo 4 si chiama Unione, difficoltà direi di mettere difficile Per sconfiggere il condottiero Senjuro, l'Orochi deve introdursi nel palazzo imperiale In un mese Aiyu guidò il suo ricompattato esercito alle porte del palazzo dell'imperatore Solo due Daimyo rimanevano, lei e Seijuro Ma sarebbe stato quello Rochi a cambiare per sempre il corso della storia Ok ragazzi, quindi scontro tra Daimyo Utilizzeremo l'Orochi naturalmente Queste due tecniche vanno benissimo Capitolo 4, Unione Il palazzo imperiale Una fortezza nella fortezza Attenzione 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 Seijuro Il nostro popolo sta morendo Getta le armi Allora arredditi E inchinati a me Che pelo ragazzi Seijuro non mollava E aveva grandi guerrieri dalla sua parte Ma noi eravamo di più Dovevamo solo entrare Ok, ce l'abbiamo fatta Perfetto, eccoci qua Non entravo nel palazzo da tre anni ormai Da quando l'imperatore mi aveva fatto imprigionare Ok, eccoci qua Raggiungi le porte principali Allora, vediamo se c'è della roba qua attorno Guardate che palazzo spettacolare C'è un guerriero di lì Possiamo passare anche di qua? No, perché il personaggio non si arrampica Niente, allora dobbiamo passare per forza di lì Vabbè, attacchiamolo così Ok, attenzione Mamma mia, mamma mia signori Aia, aia Ci sono i guerrieri di Seijuro Aspettate che facciamo così Facciamo così Dai che lo buttiamo giù Perfetto, eliminato Possiamo procedere Qui c'è un'altra porta Ma e se passassimo qua dentro? Ah, guardate cosa c'è qua Il terrore I nemici intorno a te Non sono riuscito a leggere Ok, abbiamo comunque guadagnato un potere extra Mi do anche un'occhiata in giro Perché se c'è qualcosa di interessante la recupero subito Ok, ragazzi Allora, procediamo di qua Oh, guarda chi c'è Usiamo questo Usiamo questo Dai 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 Forte il tipo, eh Mi continua a rompere la guardia Dai che lo tiriamo giù Dai che lo tiriamo giù Non dobbiamo permettergli Di attaccarmi Ok Ottimo Saliamo Queste scale L'effetto è quasi terminato Forse Ok Uno è andato e anche il secondo Solo il meglio per l'imperatore Mazzà, l'elefante Dove caspita l'han preso? L'esercito è dall'altra parte Non credo sia una buona idea Cosa che vuol fare? Ah, ok Come immaginavo Attenzione Che sta caricando Però ha funzionato, eh Però ha funzionato Elefante selvaggio Elefante selvaggio Usa il tuo gesto Con triangolo Per scatenare la carica dell'elefante Può infliggere danni pesanti Ad alcuni elementi dell'ambiente Ok Le porte andavano aperte in qualche modo Attenzione E io avevo un elefante Vieni Vieni Via, sta caricando Ok, per fortuna non mi segue al cento per cento Qua, 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 qua Vieni Bravo Ok Perfetto No, lì ce n'è uno grosso Ok, stiamogli alla larga Una pessima idea Bravo, bravo Dagli fastidio No Ok, adesso mi piazzo di qua C'è sto tizio Con un martello che mi dà Dai, elefante No Via, 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 via Mamma mia, che pelo Ok Perfetto Ha rotto anche il secondo meccanismo Obiettivo completato Nuovo obiettivo Distruggi le porte principali Allora, chiamiamo l'elefante qua Scusatemi ragazzi Vi levate dalle catole Grazie Vieni qua Devo solo far ragionare quell'elefante No, no, no Via Ok Verso il portone principale Dai, vieni di qua Vieni di qua Vieni di qua Bravo Bravissimo Grandissima Grandissima Ok, possiamo finalmente entrare Vai, 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 vai Respingi i nemici fino alla piazza Oh, eh, la che mossa è Sì, ma Tutte queste mosse Uccidili e basta Ok, dobbiamo abbattere gli arcieri prima Ok, ce ne sono altri Facciamo fuori anche questi qua Ok, uccisi C'è pure quello grosso No, non mi puoi bloccare così però Mi ha stordito Grandissimo Ok, eliminato Procediamo Ragazzi, via dalle scatole Devo andare fuori gli arcieri Ok, mi sono ricaricato Saliamo di qua Lei si levi dalle scatole Grazie Attenzione Non c'erano stati tantissimi morti E nessun vero nemico Quello grosso che mi sta massacrando Dai Ok, uno è andato Gli altri li stanno facendo fuori Attenzione No Muori Ok Purtroppo mi paro pochissimo Bravi ragazzi Fatelo fuori Anzi, vengo a dargli il colpo di grazia Oh, fantastico Ok, se in giro tocca a te Uccidimi Verrò ricordato come il più grande guerriero che il nostro popolo abbia mai avuto Questi guerrieri non ti obbediranno mai Sarai dimenticato Il campione dell'imperatore ti sconfiggerà Il campione dell'imperatore E' in prigione A marcire in una cella Ti piacerebbe? Eh, meno male Che te ne sei accorto Il campione Il traditore Vuoi dire l'eroe? Dai, combatti Va bene ragazzi Si parte Andiamo a casa Dai 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 Vieni qua Mamma mia se ti bastono Il vecchio imperatore era debole Anche gli altri samurai fanno Quell'attacco lì Ti girano attorno Ok Eh vabbè però Mi sono ricaricato due secondi fa Hai fatto male a venire qui No, non spingerlo via Stai Piccino Dai che l'abbiamo fatto fuori Fallo fuori Fallo fuori Dai Che stai aspettando Ci serve un comandante Se giuro Così mi disonori Ci servi Tu Sei un grande guerriero Non ti servirò mai Allora uccidimi Prendi il mio posto Guida i nostri eserciti Sei davvero folle Il nemico è Apollion Non Se giuro Io non combatterò Una guerra per la legione Cosa fai? Rinunci Ti ho consegnato la spada Incredibile S'inchinato Il campione dell'imperatore Guida di nuovo Le truppe Andrò ad Ashfeld Il nostro nemico È là Ok ragazzi Abbiamo completato Anche questa missione Direi di passare Alla prossima Incredibile Si sono uniti A Senjuro Ok ragazzi Seconda missione Di oggi Capitolo 5 Loroci E Momji Esplorano Ashfeld Per l'imminente assalto Alla fortezza Di Ossidiana Prima che il campione Dell'imperatore Guidasse l'esercito Di Aio Ad Ashfeld Vennero qui In ricognizione Serviva loro Un passaggio sicuro Per raggiungere La mia fortezza Ma Ashfeld Era cambiata Ok Vediamo com'è cambiata Allora Utilizzeremo nuovamente Loroci Va benissimo Capitolo 5 L'onore Ok Eccoci arrivati Apollion era stata Generosa Col suo popolo Tanto quanto Lo era stata Col nostro In effetti Ah ci separiamo Così Dovevamo capire Cosa stesse Succedendo Ad Ashfeld Così Esplorammo Ok Qui ci sono Guerrieri Morti Ovunque Che spettacolo Ragazzi Guardate che foresta Lì ci sono due soldati Diamo un'occhiata Anche di qua Ma non c'è che dire Graficamente Spettacolare Veramente spettacolare Non c'è che dire Di cosa c'è La fortezza Dov'è l'esercito Andiamo un attimo Di qua va Uccidi tutti i cavalieri Di pattuglia Ok Attenzione Che stanno arrivando Anche gli altri Attenzione I samurai Vi dicevo L'altra volta Non mi piacciono Perché Sono delicati Rispetto agli altri guerrieri I cavalieri Sono quelli più equilibrati I vichinghi Sono quelli più resistenti Però sono lentissimi Aspettate che sono Oh e là Eh vabbè C'è pure un assassino Andiamo bene Guarda come mi corre dietro Ricaricati Ok Beh sentite Muovete rotto però No Eh ma sono troppi Sono tutti insieme Ok Uno è andato Guardate Non gli faccio neanche L'esecuzione Basta Facciamoli fuori tutti Oh Facciamogli l'esecuzione Ciao assassino Dovevo trovare Mominji E terminare la ricognizione Ah Mominji si chiama Ok Eliminati tutti Guarda che razza di castello Ok Secondo distruggibile Dove caspita Sei andato Ah Siamo entrati nel castello Eh ci han beccati Allora facciamo fuori questi qua Dai usiamo Questa mega balestra La nostra missione segreta Ora era molto meno segreta Eh infatti Ci hanno sgamati Ma questo qui non è un castello Questo qui è un castello Della legione di Ferrum Ok Andiamo ad aiutare Mominji Ok Wow L'ho lisciato completamente Sì ma Non picchiamo il nostro alleato No scusa L'altro avversario Te lo pigli te Scusami eh Arrivo subito Eccolo Dai gli do io No è già morto Volevo dargli il colpo di grazia E questi qui da dove saltano fuori L'assassino te lo pigli te Bello che si è buttato giù dalla Dal muro si è buttato giù Ha perso metà vita così No facciamo una roba Te ti becchi l'assassino E io mi prendo No era meglio Il contrario Sì vabbè ma quanti ce n'è Fate che seguirmi va Venite 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 Ok eliminato Aspetta che becco L'assassino così Sì l'ho lisciato Bravo dammi le spalle Ok ottimo lavoro Momiji Sto rimpiangendo la prigione Vabbè dai Ti sei fatto un viaggio a Dashfield Et voilà Ancora No perfetto Eliminati tutti quanti La fortezza è nostra Disorganizzati Ho visto un guardiano Che portava alcuni cavalieri via dalla fortezza Dovremmo seguirli Dai Andiamo a dare un'occhiata Va I confini di Apollion Erano sguarniti Chi era stato Ok dove caspita Siamo arrivati Ah li sta armando Cos'è sta roba Lo conosco quello Il guardiano Si ribellano Possono farlo Dobbiamo andarcene Perché Attenzione Corri 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 Aia Lampigliata Dovevamo andare Via 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 Scorta Momiji al ponte Riesci a zappicare Più velocemente Ok Però è vero Ho cambiato scudo Non fanno più parte Della legione di Ossidiana Eh sti qua sono forti Devo dargli una mano Aspetta che facciamo così Così almeno Il 4 e il 4 8 riesco a farli fuori Ok Perfetto Ok Il ponte Dove caspita il ponte Di là Di qua Attenzione Per fortuna L'ho visto appena in tempo Però è sempre Velocissimo Momiji Le mani per Darmi una mano Le hai eh Via 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 Ok anche quello andato Via 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 E via E questi qui che si arrampicano su Ok Vabbè almeno sti qua si fanno fuori Abbastanza veloce Oh Dai dammi una mano Facciamo fuori questi qua Piccolini Oh quanti ce n'è Dai 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 Eh no però Devo recuperare un attimo salute Anzi non salute Stamina Dai Ok andato Ti ho lasciato quelli facili eh Quindi Vedi di non deludermi Via Aia Aia Mamma mia E' veloce E' sto cavaliere Ok eliminato Combattete con me Dai Ricarichati un attimo Scusami eh Arrivo subito Prendo questo Ma basta Ok eliminato Perfetto Perfetto Attenzione Mi sa che mi hanno catturato Eh si Direi di si Non siamo tuoi nemici Campione Voi avete ucciso la famiglia imperiale Non siamo più Degli Ossidiana Attenzione Attenzione Tocca a me Eh no cavaliere Sono più rapido Dai che ti stendo Il cavaliere probabilmente È più Equilibrato Rispetto a me Tirati su Ah Ha messo anche lui Lo standard Eh no Così non vale Devo portarlo Non voglio Sì ma così sta recuperando vita Caspita Vai fuori da qua Vai che l'ho quasi steso Vai buttalo nel geyser Ti ho steso Sono più forte io Sì Sei davvero il campione dell'imperatore La via per la fortezza di Ossidiana È aperta per il tuo esercito Buona fortuna Ok Incrociare le spade è un ottimo modo Per valutare una persona Avevo capito bene Chi fosse quel guardiano Ok ragazzi Missione completata Quindi Alcuni Ossidiani Si sono ribellati Ad Apollyon Hai capito Eh ma il guardiano lì Già alla fine della campagna Dei cavalieri Mi aveva dato l'impressione Che si sarebbe ribellato Ovunque Ovunque brulica di predoni vichinghi Le nostre stesse legioni Si combattono E ora Il campione dell'imperatore Bussa alla mia porta Con il suo esercito Questo Sarà un giorno Da lupi Ok ragazzi Ultimo episodio 3.6 Apollyon Quindi Alcuni Ossidiani Si sono ribellati I vichinghi Hanno invaso Ashfeld E Noi con il nostro esercito Stiamo per attaccare La fortezza di Apollyon Difficoltà difficile L'Orochi Guida la carica Alla fortezza di Ossidiana Mentre Apollyon Cerca di resistere Ovunque Brulica di predoni Ah ok Ci dice praticamente Le stesse robe Di alcuni secondi fa Direi di iniziare subito Questo ultimo Fantastico capitolo Di questa emozionante Campagna single player Apollyon Ecco i rinforzi Difendete il cortile I samurai Sono oltre la seconda porta Siamo già entrati Mamma mia Apollyon Che violenza Signora La legione di ferro È alle porte Ah infatti Avevo visto giusto Erano gli standardi Della legione di ferro Eccovi qua Cosa vorresti fare Holden Finalmente Via Attenzione Fermate i samurai Alla legione di ferro Penso io Cioè vuole sterminare L'intera legione La fortezza Della legione di ossidiana Che macello Le porte erano cadute Le vie di fuga Erano bloccate Erano spacciati Le catapulte erano Ai piani superiori Ok Dobbiamo far fuori Le catapulte Allora Attenzione Le frecce Facciamo fuori Questi guerrieri Che ci impediscono Il passaggio Prima di tutto Dovevamo eliminare Le catapulte Ok Intanto mi prendo Anche i distruggibili Guardate che spettacolo Ok Mi prendo queste Di qui si va Da qualche parte Forse si Là c'è gente Che combatte Ok Proviamo a salire Un attimo di qua Guarda gli altri Carceri Ah ok Lì ci sono Delle catapulte Attenzione Ok Aspettate Facciamo fuori Questo guardiano In questo modo Perfetto Ok Esecuzione E via Ok Distruggi la catapulta Andata Ne manca un'altra Fiasi Piaceri Poi di qui Non si va Da nessuna parte Ok Ok la seconda Si trova qua Quella E te con quest'armetta Dove vuoi andare? Aia Dai che È resistente L'amico Fritz No 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 Mamma mia Si ma Se mi dai anche Una mano Ti ringrazio Evitato cadendo Per terra Le catapulte Aspetta Ok Adesso Dai No No Aia Dai Fallo fuori Grandissima Mi hai salvato Perché stavo per morire Ok Seconda catapulta Andata Ok Eliminato Questi qui Fateli fuori Allora Ok Andato E Scusa Perfetto Rinforzi Fermati 2 su 4 Mi prendo Altre frecce qua Dobbiamo Bloccare Questa qua 3 E ne manca solo una 4 Perfetto Sconfiggi I nemici Rimasti Sì ma se stanno Lì dentro Dai ragazzi Su Non siate timidi Aspetta Ce n'è ancora uno Ok Segui Okuma Dove è andato Ah è lì Dai andiamo amico Okuma Certo Perché no Apri la strada Apri la porta Ah no Non c'è nessuna porta Ok Pensavo ci fosse una porta L'unica cosa Da fare Era salire Ok Nuovo obiettivo Della missione Raggiungi la torre Via Quanta velocità Perfetto Ce l'hai fatta? No Lascia la cittadella Ah ok Ci buttiamo sotto così Ok ragazzi Non potevo lasciare che Apollyon fuggisse Dovevo trovarla E ucciderla naturalmente Il mio castello è enorme Ha avuto molti padroni E ogni legione Lo ha ridecorato Secondo il proprio gusto Io ho preferito Lasciarlo come era Loro non esistono più E i loro simboli Sono ora i trofei Ok facciamo fuori Questo qua Dobbiamo aprirci la strada Fino Alla torre Uella Mamma mia Breakdance Mi sta un po' facendo Male Senti mi hai rotto eh Volevo spingerlo Dai che stanco Ok morto Si mi ho preso fuoco anch'io No ti prego Ok Mamma mia Allora aspettate che Ricarico un attimo la salute Attenzione Potrei quasi quasi buttarlo giù Dai 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 Facciamogli male Uh è per terra Eh ma bisogna sfruttare le ste occasioni però Bravo Fai ancora un passo indietro Grazie No però adesso sono io per lo stampo Dai che non è fortissimo Gli ho rotto la guardia Aspettate Ok Perfetto Gli faccio pure l'esecuzione Così recuperiamo un po' di vita Fantastico Ok Sentivo i cavalieri uccidersi tra loro Dovrei essere quasi arrivato eh Il terrore Ecco Stendardo incrollabile No andiamo qua dentro Eccola lì Apollyon Mamma mia che violenza Guarda Guarda che roba Finalmente L'impero dell'alba è arrivato Arrenditi Pentiti di ciò che hai fatto No grazie Ora dovevo solo sopravvivere Eh sarà dura Sarà dura Apollyon Ho fatto bene a tenermi quello Però ho un sacco di vita Veramente tanta 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 Come nemico parrebbe lento eh Aia Ok sta andando via Vai Orochi Dobbiamo inseguirla Dobbiamo inseguirla Eh sì Perché Eh infatti adesso è diventata più veloce Come immaginavo Apollyon Queste sono le frappole dei samurai Aia Mamma mia Appena in tempo No Eh non posso fuggire Dov'è andata? Ah eccola là Come ha fatto a parare? Dai ragazzi che la sto massacrando Però ho finito Le bombe avvelenate eh Ho finito le bombe avvelenate La morte arriva per tutti Il vero guerriero È colui che non se ne cura E compie stoicamente il suo dovere Vieni Guerriero Quella era la fine Va bene ragazzi Duello finale Dai Attacchi veloci Eh vabbè Mi ha già tirato via Quarto di vita No Continua a respingere Dai Dai Brava Stai lì Stai lì Stai lì Stai lì Genio Stai lì Eh vabbè Se attiva la modalità vendetta Però diventa dura No Sono caduto per terra Eh vabbè È arrivato pure a me in testa È una pietra Che caspita di attacco è No Cosa ho fatto Eh ma sono stanchissimo Devo resistere un attimo Perché non ho più vita Eh però Apollyon mi sta proprio addosso Vai No Dai 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 Ma non lo uccide Pace Quindi Ora Che succede Andate tutti A Casa Ha buttato via la spada Siete entrati in casa mia Portando con voi Le truppe Cosa credevi Sarebbe Successo Pace Cioè si mettono A combattere Adesso Il mondo Non funziona Così Non ci credo Non parlatemi Delle vostre virtù Dovere Legami Onore Avete dimenticato Ciò che siete Tu vuoi la guerra Soltanto La guerra Tutto ciò che voglio E che Ammettiate Ciò Che Siete Tutti voi Miei Lupi Ah è morta Ma Dimmi te Il resto lo sapete Altri sette anni Di guerre sanguinose Apollion ci aveva messi Gli uni contro gli altri Per che cosa Per eliminare i deboli Perché ci hai fatti venire qui Cross Non l'ho fatto Mi ha mandato il nuovo signore dei guardiani Per fare ammenda Come Ma stai calmo eh Il mio popolo è stato decimato Bene Ecco la tua occasione Per vendicarti Abbiamo raccontato Le nostre storie Come ha chiesto Il vostro signore Ora Perché ci troviamo qui Pace Pace Anche se fosse possibile Noi non siamo pacificatori E non vale la pena provare Beh Sì Ma Beh Così Allora che si inizia Dovrà iniziare Da noi Beh Moriremo provandoci Lo sapete bene Ma sarà una storia Memorabile Ma dimmi te ragazzi Che casino Che è venuto fuori Quindi alla fine Han deciso di combattere Tra loro Tre Loro tre Inteso come popoli E poi Dopo anni di guerra Hanno deciso di mettersi d'accordo Per Terminare ogni conflitto Spettacolo Veramente spettacolare Un finale di serie Ragazzi Pazzesco Questo titolo è stato Veramente Fantastico Saltiamo tutto Qua Ok Abbiamo completato Anche La campagna Di samurai Adesso mi daranno Le solite ricompense Perfetto ragazzi Multigiocatore Guerra di fazioni Congratulazioni Completato la modalità storia Ora puoi partecipare Alla guerra di fazioni Unisciti alla tua fazione Multigiocatore Cambia le sorti Della guerra Ok Allora abbiamo completato La campagna Single player Del gioco Devo dire Una campagna Spettacolare Con la S Maiuscola Per quanto riguarda Il multiplayer Come vi dicevo all'inizio Del video Non so se ve lo porterò Perché comunque in parte Ve l'ho già portato Durante la closet beta Magari andrò a dare un'occhiata Se hanno aggiunto Delle modalità Che non abbiamo provato E vi porterò quelle lì Però per il resto Direi Di considerare Concluso For Honor Io ragazzi Spero che questa serie Vi sia piaciuta E anche questo Ultimo episodio XL Diciamo così Perché vi ho portato Praticamente Tre capitoli Della campagna Dei samurai Ragazzi Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo video Sempre qui Sul mio canale YouTube Alla prossima Ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti